Noi saremo presenti a questo grande avvenimento che è il Giro d'Italia alla partenza a San Lorenzo, siamo stati invitati dal sindaco, siamo stati invitati dal dottor Argirò per essere presenti con la nostra ricetta, la ricetta dello stoccafisso che cucineremo in un nostro stand a San Lorenzo il giorno 9 sulla piazza giù al mare. Ci sarà anche una novità che ci sarà una cascata d'olio dove ci sarà anche un buon vino della cascina Caching e quindi cercheremo di fare il nostro dovere in modo più assoluto. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare i nostri sponsor che uno soprattutto è la famiglia Carli, la fratelli Carli, poi abbiamo l'Albigadus e poi abbiamo l'azienda agricola Il Caching di Gianni Massa che ci porterà un buon vino da poter accompagnare con la nostra ricetta. Un ringraziamento va all'ufficina Combi che ci segue sempre sia come Accademia sia come Comitato San Giovanni, se ne trovano più poche di queste officine attrezzate che ci possono seguire. Altre cose vi aspetto giù a San Lorenzo il giorno 9. Ringrazio Impiere TV per l'opportunità di pubblicizzare questo evento che è di nuovo un'altra iniziativa promossa dall'Accademia e dal Comitato San Giovanni. Non c'è l'occasione migliore che la grande partenza del Giro Italia, una manifestazione che viene vista in tutto il mondo, per essere presenti con la nostra attività istituzionale che è quella di promuovere le tradizioni locali. L'Accademia e il Comitato saranno sulla piazza di San Lorenzo nella giornata del 9 per fare degustare il piatto dello Stoccafiso, questo particolare piatto, a tutti gli ospiti, soprattutto agli ospiti che arrivano da fuori regione e ai giornalisti di tutto il mondo che accompagneranno qui la grande Corsa Rosa. Io per l'ennesimo anno sarò presente, avrò il piacere e l'onore di seguire il Giro d'Italia come un collaboratore della zona tecnica Rivi, per cui non posso fare altro di invitare tutti gli amici imperiesi e non di venire soprattutto alla partenza perché sarà serenamente un momento particolarmente suggestivo non solo per le aziende imperiesi ma per tutto il territorio.